Fra 50 anni il calcio sarà ancora più globale. Il mondo si è globalizzato e di conseguenza anche il calcio si è globalizzato. Rimacono delle differenze legate alla cultura, alla tradizione dei paesi, alla storia. Però diventa molto più difficile ora identificare il calcio tedesco dal calcio italiano piuttosto che dal calcio inglese rispetto a 20-30 anni fa. Credo che in futuro le grandi squadre di club avranno un ruolo sempre più attivo. Questo non so se vuol dire che daranno vita a un campionato europeo per club, ma sicuramente gestiranno il calendario. Tra 50 anni il calcio sarà sicuramente ancora lo sport più popolare. Credo che in questo momento soprattutto i paesi asiatici si stanno interessando sempre di più. occorrerà sicuramente qualche anno, ma credo che la Cina sta facendo le cose in maniera seria. Nel senso che io sono convinto che tra 10-15 anni avranno un mondiale che organizzeranno a partire dal 2030, credo, ma soprattutto hanno fatto un fondissimo investimento per far crescere nuovi talenti. e si stanno rupendo questo video. C'è un livello che si stanno rilando molto a 200 anni fa. Nel senso che si stanno rilando con un po' di più, buon, non blo Anggi e ci vediamo con il mondo. e quando si stanno rilando con un Buon anno,